... Ed eccoci con l'attrice Maria Grazia Buccella. Sì, questo è il mio nome. Una grande attrice, diciamo oggi, viene festeggiata lei qui, vero? Lei è festeggiata oggi qui? Beh, perché è festeggiata? Sì, è sempre festeggiata, diciamo. Ci vuole raccontare un po' di storia della cinematografica sua, in breve? Sì, certo, ho iniziato con Cicchigori, appunto, ho fatto dei film con un mutuo che mi hanno portato poi... Al successo? Ecco, ne ho avuto. Al successo? Sì, sì, sì. Quanti film ha fatto lei nella sua carriera? Ne ho fatti più di trenta. Più di trenta. Sì. Con grandi nomi? Sì, certo. Sì, vogliamo ricordare qualcuno? Qualcuno? Beh, italiani ricordiamo Gasman, questi attori, Manfredi... I più grandi, diciamo, dell'epoca. I più grandi. Poi ho lavorato con Iubrin, Gregori Pecchi... Un ricordo che, diciamo, gli viene in mente più frequente, diciamo. Sono così tanti che non saprei dove... Non saprei dove cominciare. Non saprei dove cominciare, veramente, anche perché conoscendo Vittorio Cicchigori, che è lui che mi ha dato modo di fare i film più significativi della mia carriera, più importanti. Quindi può capire in che tour ve ne sono entrata. Così è molto bello, sì, senza... Auguri per la sua carriera e auguri per quello che farà in poi. Grazie, grazie. Grazie all'intervista. Un saluto da Prode Fernando e da Maria Grazia. Uccello. Uccello. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Grazie.